Dopo il Vaticano la risposta dello Stato, malgrado il dramma parigino ai possibili rischi per l'Italia, il giubileo si farà. Ieri arriva a dire che ora, più che mai serve l'anno santo, Monsignor Galantino, segretario della CEI e Monsignor Fisichella, incaricato dal Papa di organizzare l'evento che porterà a Roma milioni di pellegrini. Oggi, dalle colonne del Corriere della Sera, parla il sottosegretario della Presidenza del Consiglio De Vincenti e lo fa per chiarire che il Governo non ha mai pensato di rinviare l'inizio, il prossimo 8 dicembre dell'anno santo. È un'occasione per andare in direzione opposta rispetto ai fatti inaccettabili di Parigi, verso il rispetto alla tolleranza, verso la comprensione fra popoli, tra fedi, tra persone, ha detto De Vincenti, che ammette che nessun paese ha rischio zero e che il timore di possibili attacchi anche nella capitale non può essere escluso. Dichiarazioni confermate dal Ministro dell'Interno Alfano. Le misure di sicurezza sono state potenziate al massimo livello. Dobbiamo fare in modo che il giubileo si svolga come l'Expo. Per riuscirci arriveranno nuove risorse. Si parla di 300 milioni messi a disposizione dal Governo per la sicurezza, oltre a 700 militari che circolano già nelle strade della capitale. È stata rafforzata la vigilanza, ha detto Alfano, a tutela degli obiettivi francesi e ebraici, ma anche dei centri di aggregazione turistica e delle zone della Movida. Per il momento i maggiori effetti si sono visti ieri in Vaticano, dove per l'Angelus Domenicale di Papa Francesco i controlli sono quantomeno triplicati tra poliziotti, carabinieri, vigili urbane e agenti in borghese. Una sorta di prova generale in tono, mirore con controlli a tappeto su zaini, borse, tracolle e addirittura termos con agenti muniti di metal detector al lavoro dalla mattina. Scene simili ne vedremo nelle prossime settimane, mentre si avvicina un giubileo che stanna, quanto detto oggi dal segretario della Santa Sede, il cardinale Pietro, parolina al quotidiano, francese Lacroix, sarà aperto anche all'Islam perché più che i sentimenti di vendetta deve vincere la misericordia e la voglia di superare l'odio.